Musica Auroso schianto tra due auto a Carrara di Fano, atterrata l'eliambulanza, due feriti trasportati al torrette di Ancona. Spaccio di droga a Flaminio di Fano, arrestato dai poliziotti, un operaio del posto di 22 anni. Stanità in lutto, è morto a 72 anni il dottor Polisca, stimato primario di rianimazione dell'ospedale di Urbino e direttore del dipartimento emergenza-urgenza. Cogliere a Metauriglia, dopo le polemiche il Comune ha fatto il punto sui lavori che proseguiranno anche in estate, soddisfatti del progetto, atteso da 30 anni tutti i bagnini della zona. Auto e moto a forte velocità, al Via Fano l'installazione di dossi in asfalto, si parte da Ronco-Sambaccio per poi proseguire in altri quartieri della città. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo con la cronaca, in particolare con il frontale tra due auto avvenuto ieri sera intorno alle ore 21 lungo la strada nazionale Flaminia a Carrara di Fano. A scontrarsi sono state una Golf condotta da una ventenne di origine straniera ma residenti a Colle Metauro, una Mercedes guidata da una donna di 62 anni residente a Lucrezia di Cartoceto. I vigili del fuoco, intervenuti con due autobotti, hanno provveduto ad estrarre i conducenti delle vetture per poi affidarli alle cure del 118. I sanitari hanno predisposto per il giovane il trasporto in eleambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette di Ancona. La donna invece è stata portata nello stesso nosocomio a bordo di un'ambulanza. Sono entrambi in prognosi riservata. Sul posto anche la polizia stradale di Cagli per i rilievi di legge. L'area interessata è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Entra in un'auto per vendere droga ma viene scoperto e arrestato per spaccio. È successo ieri sera intorno alle 19.30 vicino ai giardinetti di Piazza del Popolo in zona Flaminio a Fano. Ad entrare in azione gli agenti del commisariato diretti dal dirigente Stefano Seretti che durante un giro di perlustrazione hanno prima avvisato un giovane entrare nella vettura di un coetaneo e poi dei successivi movimenti di scambio. Una volta usciti sia il conducente che il 22enne, residente a Fano, sono stati fermati dai poliziotti. Dentro l'auto sono stati rinvenuti 10 grammi di hashish che sarebbero stati acquistati dal conducente per 50 euro. Invece il 22enne operaio incensurato è stato trovato in possesso di altre dosi della stessa sostanza. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione. Complessivamente i poliziotti hanno trovato 170 grammi di hashish oltre al bilancino di precisione e al denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto. L'operaio che ha patteggiato è stato condannato a 10 mesi di reclusione, pena sospesa e al pagamento di una sanzione. Torniamo a parlare delle scogliere di Metauriglia perché dopo le critiche e l'appello lanciato ieri da Michele Tanzi sulla messa in sicurezza anche della spiaggia libera, oggi l'amministrazione comunale ha incontrato gli operatori bagnari per fare il punto sui lavori. I bagnini sono tutti d'accordo con il progetto presentato ed anzi sono pienamente soddisfatti per quest'opera che è attesa da oltre 30 anni. Aveva chiesto di intervenire con urgenza per sistemare questo tratto di spiaggia a Metauriglia dove la ditta è incaricata. Aveva rimosso le scogliere nel mese di aprile senza provvedere a quelle nuove. Michele Tanzi aveva lanciato ieri su Fano TV un appello all'amministrazione comunale preoccupandosi anche per gli stabilimenti balneari per il rischio di future mareggiate. I gestori però da quanto emerso questa mattina sono tutti in sintonia con il cronoprogramma dei lavori, ricordato oggi, durante una riunione convocata dal vicesindaco Cristian Fanesi. Erano presenti anche i tecnici del provveditorato e del comune che hanno illustrato l'intervento complessivo che Fanesi vorrebbe terminare nel più breve tempo possibile. Dunque abbiamo concordato con gli operatori, insomma abbiamo spiegato lo stato di avanzamento, abbiamo detto che se tutto va bene, se le condizioni meteomarine ci saranno buone, se ci potrà essere qualche deroga per poter lavorare anche nei giorni non festivi durante il mese di giugno, luglio o così, se tutto va bene a settembre-ottobre questi lavori finiranno. Sono lavori ovviamente molto importanti, 4 milioni, 6 setti, un chilometro e mezzo, un chilometro e duecento metri circa di spiaggia difesa e quindi noi siamo veramente contenti che questo lavoro proceda. La Regione Marche, ha poi aggiunto l'assessore, ci ha comunicato che grazie al PNRR ha richiesto la possibilità di continuare l'intervento fino all'altezza dell'hotel Playa a Torrette. L'obiettivo infatti è quello di dare continuità al progetto con l'auspicio che si possa avviare già il prossimo anno il secondo stralcio dei lavori a difesa della costa di Fano Sud. L'amministrazione comunale insieme alla Regione, RFI che cofinanza questo progetto ha intenzione e continuerà ad investire a Metauriglia quindi vorrei tranquillizzare anche rispetto alle polemiche che ci sono state sicuramente guidate dalla buona fede però vorrei dire che anche noi siamo guidati dalla buona fede e gli strumenti tecnici, i progettisti sia del Proveditorato Opere Pubbliche sia del Comune di Fano sia dell'impresa ci hanno detto che i lavori proseguono bene e se il mare rimane così non ci saranno nessun tipo di problemi e a ottobre finiremo il lavoro. A riferire dell'entusiasmo e del pensiero unanime degli operatori balneari è il collega e presidente di Oasi con fartigianato Mauro Mandolini. Siamo pienamente soddisfatti perché i lavori stanno andando bene il cronoprogramma è bello serrato e veloce e quindi ci aspettiamo che i lavori finiscono il primo possibile siamo completamente in linea con l'operato dell'amministrazione e tutta la parte tecnica quello che gli diciamo avanti veloci perché non vediamo l'ora che questo intervento finisca per riqualificare al meglio tutto il territorio e la zona. Da quanto tempo aspettavate le scogliere? Ma guarda queste scogliere qui penso che siano ormai 30 anni anche più che stanno aspettando diciamo di essere spostate più a largo questo intervento servirà principalmente a riqualificare tutta quest'area che fino ad oggi è stata un'area depressa e con questo intervento qui dovrebbe ritornare a diventare un'area una nuova area fruibile anche a tutta la parte turistica per cui è un intervento importantissimo per tutta la località ma io dico anche per tutto il comparto del turismo. E' morto all'età di 72 anni il dottor Roberto Polisca stimato primario di rianimazione dell'ospedale di Urbino per 13 anni e direttore del dipartimento emergenza urgenza aveva iniziato la sua attività a partire dal 1985 come medico di medicina generale ad esprimere cordoglio anche la direzione di area vasta 1 e quella medica ospedaliera. Polisca è stato un professionista determinato si legge in una nota capace e premuroso con i pazienti soprattutto nell'incarico di esperto della terapia del dolore un esempio prezioso di professionalità di altissimo livello che ha cercato di trasmettere ai suoi collaboratori i quali lo ricordano con profondo affetto e stima. Due persone sono rimaste ferite in modo lieve in un incidente accaduto questa mattina alle 8.40 in Viale Piceno a Fano una Fiat Panda condotta da una fanese di 44 anni si stava dirigendo verso Pesero quando giunta all'altezza della Tamoil ha svoltato a sinistra intersecando la strada ad una Fiat Punto con a bordo una fanese di 74 anni quest'ultimo stava procedendo nella direzione di marcia opposta sul posto il 118 la polizia locale di Fano e una ditta specializzata per la pulizia del manto stradale i vigili urbani sono intervenuti anche in Via Lelli alle 14.15 per eseguire i rilievi di un altro incidente una jeep guidata da una fanese 44 anni con a bordo il figlio di 8 anni una volta arrivata all'altezza di Via Gigli si è scontrata con una lancia Y condotta da una ragazza 23 anni di Colle al Metauro la giovane era intenzionata ad attraversare l'incrocio e proseguire diritto in direzione sud a causa dell'urto sono stati danneggiati anche un'auto in sosta una Citroen C3 e un palo della luce dal quale si è staccata la parabola che è finita nell'area privata di un'abitazione per fortuna nessuno è rimasto ferito Ronco Sambaccio, Rosciano, Bellocchi e Tombaccia sono soltanto alcuni dei punti dove il comune di Fano realizzerà degli attraversamenti rialzati dei dossi per moderare la velocità delle auto e dei ciclomotori particolari nel servizio di Filippo Pucci Proseguono nei quartieri i lavori del comune di Fano in sinergia con le segnalazioni dei cittadini e dei residenti alcuni giorni fa sono partite le opere per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali nelle principali vie e località della città il settore lavori pubblici sta intervenendo per la realizzazione di nuovi dossi rialzati per moderare la velocità di quegli utenti che non rispettano i limiti primo luogo ad essere interessato da questo tipo di intervento è stata la zona residenziale di Ronco Sambaccio dove numerosi cartelli affissi dai residenti che invitavano gli utenti a rallentare non sono serviti a nulla l'amministrazione sta intervenendo in alcune vie della città con degli interventi di moderazione della velocità in alcune zone critiche come Rosciano, Bellocchi o anche come vedete oggi qui a Ronco Sambaccio stiamo intervenendo con una serie di attraversamenti rialzati classici dossi asfaltati per poter rallentare la velocità più di un anno fa i residenti di questo borgo sono venuti in comune rappresentando questa problematica essendo una via di attraversamento la velocità è molto elevata i residenti che vivono il quartiere 24 ore su 24 lamentavano la pericolosità e quindi il comune è voluto intervenire con questo intervento l'intervento qui a Ronco Sambaccio sta terminando manca la parte di segnaletica verticale e orizzontale nelle prossime settimane inizieranno quelli nelle altre vie della città i prossimi interventi interesseranno le zone del centro abitato di Rosciano e lungo via 4 novembre successivamente le vie del quartiere di Bellocchi ed infine a Tombaccia tutti gli interventi sono stati frutto della segnalazione di vari cittadini ma soprattutto qui a Ronco Sambaccio c'è stata una grossa collaborazione con i residenti un gruppo cospicuo abbiamo fatto tantissime riunioni anche qui sul posto per capire dove posizionare precisamente i dossi dove potevano dar fastidio o meno e quindi posso dire che c'è stata una grande collaborazione e ringrazio appunto tutti i cittadini attivi di questo splendido borgo Invece a Vallefoglia sono in fase di ultimazione gli asfalti delle strade comunali in questi giorni è stata completata la nuova pavimentazione delle vie che vedete in questo cartello mentre oggi la ditta si è trasferita in via Serra di Genga dove è previsto l'ultimo tratto del programma di asfaltature per il prossimo anno il sindaco Palmiro Ucchielli ha annunciato che l'amministrazione ha già previsto uno stanziamento di 600.000 euro finanziati interamente con l'avanzo di bilancio l'obiettivo è quello di intervenire sulle restanti strade e vie che necessitano di una manutenzione per riportare così a nuovo e mantenere in ottimo stato tutte le strade di proprietà d'altra parte, ha detto il sindaco si vuole garantire sempre più la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni apportando anche un'immagine decorosa a tutto il territorio comunale ancora cronaca, paura all'ospedale regionale Torrette di Ancona dove questa mattina intorno alle 11 ha preso fuoco un'auto parcheggiata i pompieri hanno spento le fiamme che avevano avvolto completamente la vettura e si stavano propagando verso un altro mezzo in sosta non si segnalano feriti sul posto anche la polizia locale Parliamo ora del settore agroalimentare perché nei giorni scorsi a Fano sono stati illustrati i dati della cooperazione in Tunisia dove sono state aiutate ben 30 piccole aziende L'esperienza di Fano e il ruolo dei comuni nella cooperazione territoriale è stato questo il titolo del convegno che si è svolto nei giorni scorsi alla Mediateca Montanari l'obiettivo è stato quello di illustrare i risultati del progetto Startup Tunisie cofinanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e che vede Fano comune capofila si tratta di una iniziativa finalizzata a promuovere opportunità lavorative in Tunisia attraverso la creazione di imprese del sistema agroalimentare ma favorendo al tempo stesso uno scambio di conoscenze e di nuovi rapporti tra aziende marchigiane e tunisine Il ruolo del Consorzio Marche Biologiche è stato quello di accompagnare queste giovani imprese che volevano avviare la loro attività e quindi abbiamo accompagnato queste aziende sia nella conversione al metodo biologico sia nella pianificazione degli investimenti con l'approccio di filiera occorre andare sul mercato con un prodotto finito e coniugare e integrare tutte le fasi quindi produrre, certo, ma anche trasformare, ma anche commercializzare Folta la platea dei relatori da Marina Sereni, sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri agli amministratori locali dai tecnici all'Università di Urbino Carlo Bo per il ruolo di ricerca fino alle cooperative coinvolte nell'iniziativa Ad illustrare nel dettaglio i risultati conseguiti è stato il responsabile del progetto Ivan Antoniozzi In termini numerici 16-18 imprese attivate in start-up d'impresa in Tunisia, nel comparto di agricoltura biologica altre imprese già costituite con un precedente progetto comunitario rinforzate negli equipaggiamenti e nelle competenze quindi di fatto risultati assolutamente concreti nell'ambito dello sviluppo economico in un territorio che è quello a nord-est della Tunisia del governatorato di Genduba noi in particolare lavoravamo sulla municipalità di Tabarca in fortissimo ritardo di sviluppo ecco, poi ci sono tutta una serie invece di risultati derivati come quello appunto di contenere anche l'immigrazione cioè lo scopo anche di questi progetti è rafforzare ovviamente lo sviluppo l'economia e l'occupazione in quei territori Se vogliamo aiutare i paesi sottosviluppati ha poi aggiunto il sindaco Massimo Seri dobbiamo farlo adeguando le loro competenze nel mondo, ha commentato il primo cittadino i grandi successi partono dal comportamento dei territori Mi piace sottolineare un aspetto Fano internazionale nel caso specifico nel mondo dell'agricoltura partendo dalla nostra eccellenza che è quella del biologico sono state coinvolte una serie di soggetti e il progetto ha portato a far nascere delle start-up in Tunisia ma il ruolo degli enti locali è importante perché sempre più sono strategici è vantaggioso anche per noi fare queste cose perché quando aiutiamo chi ha meno chi sta male significa aiutarli a crescere perché altrimenti poi le ripercussioni ricadono anche a noi che siamo lontani pensate solo a quei fenomeni migratori dati dall'economia dalle crisi climatiche dalle carestie, dalle guerre quindi se non li aiutiamo là poi in realtà troveremo altri tipi di conseguenze quindi sta in una strategia di aiuto di sensibilità ma anche se volete in termini egoistici utile anche per noi Regione e PSR Marche propongono un nuovo ciclo di incontri organizzati sul territorio per presentare i bandi aperti e di prossima emissione per condividere riflessioni e anticipazioni sulla prossima programmazione 2023-2027 e continuare il percorso di ascolto con gli imprenditori agricoli sui temi legati alle politiche di sviluppo rurale salgono, saranno sette gli appuntamenti che si snoderanno su tutto il territorio regionale si inizierà domani 18 maggio a Macerata Feltria in provincia di Pesero Urbino maggiori dettagli li troverete sul nostro sito occhioallanotizia.it e passiamo allo sport perché la città di Fano si prepara ad ospitare due gare importanti di vela e canottaggio Sport e turismo ancora un binomio vincente il club nautico fanese Geremia Vivani ha presentato ieri due competizioni che si terranno a Fano nei prossimi fine settimana domenica 22 maggio appuntamento con la prima tappa della Coppa Filippi si tratta di un circuito nazionale di canottaggio che sarà la base per la qualificazione dei campionati italiani di Barletta e per quelli successivi sia europei che mondiali si sviluppa su un weekend di iniziative con la prima edizione di Remu Turismo il venerdì in cui si porteranno i partecipanti a regattare e a scoprire la costa fanese utilizzando come mezzo le barche da canottaggio sabato avremo degli stage tecnici del canottaggio costal ovvero sia il beach sprint che l'endurance sotto la guida del nostro direttore del centro remiero territoriale che è Fabio Patrignani e domenica ci sarà la gara vera e propria di beach sprint in cui vedremo dei momenti di corsa 25 metri di corsa poi un canottaggio per 500 metri lungo la spiaggia del Lido di Fano e poi di nuovo l'arrivo di corsa scendendo dalla barca e andando a tagliare il traguardo sotto l'arco della Federazione Italiana Canottaggio alla vela invece saranno dedicate le giornate del 28 e 29 maggio con la quarta e quinta tappa del campionato zonale giovanile Ilca la gara è valevole per la qualificazione dei campionati nazionali del prossimo settembre sono tappe di avvicinamento al campionato italiano e permettono di fare punti per la ranking list nazionale che riguarda la specialità la categoria laser quindi la specialità la gara di fine maggio è organizzata dal club nautico fanese in collaborazione con il circolo windsurf Fano e i circoli velici di Sassoni e Torrette sono momenti importanti quando si organizzano eventi sportivi è sempre un bel momento è il momento che diventa opportunità per chi pratica la disciplina sportiva è un bel momento perché è bello anche vedere queste manifestazioni dall'altra è un'occasione di promozione anche della disciplina sportiva e diciamolo per Fano è anche un'opportunità economica perché parliamo di arrivi coloro che parteciperanno a questi eventi il turismo sportivo è una parte importante anche della nostra offerta l'altro aspetto che mi piace sottolineare è anche il canottaggio che da un po' di tempo è arrivato anche a Fano che mancava e questo è un bel obiettivo un ringraziamento al club nautico che con le sue attività sta facendo molta promozione in dialogo anche con l'amministrazione quindi anche un grazie perché quando si ottengono questi risultati anche grazie al merito delle persone che dedicano il loro impegno mettono la loro passione per un'affinità comune Tra poco andrà in onda uno speciale sul convegno dedicato alle piccole imprese al credito e agli strumenti di sviluppo organizzato da Confartigianato Imprese di Ancone e Pesero Urbino grazie per aver seguito Occhio alla Notizia l'appuntamento con il telegiornale per domani sera alle 20.30 con la rassegna stampa domani mattina alle 7 buona sera Grazie a tutti